Proseguono in maniera incessante le indagini dei carabinieri della Compagnia di Rende per scoprire gli autori del raid vandalico messo in atto nella notte tra il 3 e il 4 aprile nel Dipartimento di Economia dell'Università della Calabria. Si attendono gli esiti dei riscontri sulle tracce di sangue rilevate vicino una vetrata sfondata, soprattutto si cerca di comprendere i motivi di quella che appare come un'azione premeditata. I teppisti avevano un piede di porco con cui hanno forzato uno degli ingressi antincendio, poi armati di estintore si sono accaniti contro le porte dei vari uffici, rischiando di essere intercettati dalle ronde della vigilanza. Ai varchi di accesso ai cubi sono montate diverse telecamere, ma l'impianto di videosorveglianza è da tempo fuori uso e questo gli ignoti malfattori dovranno saperlo. L'episodio ha riacceso i riflettori sulla questione sicurezza all'interno del campus. Molte aule comunque sono state vandalizzate. Troviamo delle sedie dove mancano praticamente tutte le file, poi naturalmente disegni non appropriati diciamo. Molte aule restano aperte e quindi è possibile che persone entrano e commettono atti di vandalismo. Vedo che stanno illuminando il ponte, quindi già è un passo avanti per la sicurezza. Il vero problema sono i cani. Da quello che vedo io no, non c'è un problema di sicurezza. Che idea si è fatta di questi atti vandalici? Che ci sono persone irrispettose comunque qui all'Unical, probabilmente non studenti perché chi studia all'Unical sa che non è conveniente nemmeno per loro comunque fare atti vandalici all'interno dell'università.